Bene amici, oggi mi sento molto professore perché sto provando questa che è una lavagna smart che ha un sacco di funzioni, secondo me è molto molto interessante, si chiama Idea Hub di Huawei e guardate mi sono fatto un bigino di tutte le possibilità smart che ha perché ovviamente non si può solo utilizzare come una lavagna e tra l'altro ha una tecnologia di cattura dei tocchi molto interessante perché non è il pannello a essere touch ma c'è una rete fittissima di infrarossi che sentono cosa va ad avvicinarsi allo schermo quindi io posso scrivere con qualsiasi tipo di cosa. Le matite qua in dotazione vedete posso tranquillamente scrivere, posso tranquillamente cancellare ma anche per esempio non so una classica penna sfera ovviamente ritraendo la punta anche se lo schermo è in vetro super resistente non si graffia eccetera 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 ma vedete posso sia cancellare che andare a scrivere ma non solo perché grazie agli infrarossi riconosce anche le gesture per esempio per cancellare. Vi ricordate il vecchio cancellino quello che una volta si riempiva di gesso e ce lo si tirava all'intervallo classicissimo bene con il pugno così guardate si può andare a cancellare vedete viene riconosciuta la gesture e si può appunto cancellare. Ma partiamo dalle caratteristiche hardware perché sono interessanti il pannello è un 65 pollice c'è anche la versione oltre 80 pollici se avete bisogno di uno schermo molto grande in 4k la cam che è posta qua sopra anche lei 4k molto grande angolare poi ve la faccio vedere. 12 microfoni che riescono a capire perfettamente da dove arriva il suono e poi ha anche 6 altoparlanti 6 diffusori ma dove viene il bello che è dotata di doppio sistema operativo sia Android che integra anche i protocolli di conferenza sia audio SIP sia audio video quindi l'H323 per intenderci quello che usa Cisco ma è anche un Windows 10. Quindi tutte le applicazioni tutti i device attaccati le chiavette USB possono essere utilizzati e a questo punto vi faccio vedere anche il dietro il cuore di questa lavagna qua sopra abbiamo la parte dedicata a Windows è un vero e proprio PC embedded con anche uscita video quindi volendo si può collegare anche un monitor esterno con ingresso uscita microfoni altoparlanti rete LAN ma il senso secondo me di questa lavagna è utilizzarla wireless così da eliminare ogni tipo di cavo tranne quello di alimentazione lì non c'è ancora alimentazione. wireless e poi qua sotto c'è tutta la parte dedicata ad Android con la rete con anche qua la possibilità di avere il video input il video output la USB e anche l'audio in ingresso e in uscita. tra l'altro qua di fianco c'è anche la possibilità di attaccare velocemente una chiavetta USB dove si può comunicare con il mondo Android scambiarsi file e anche salvare le schermate che andiamo a disegnare. ma andiamo avanti con le specifiche c'è un'intelligenza artificiale a monte delle applicazioni cosa vuol dire che è prima di sia Android sia Windows e permette delle cose che adesso vi faccio vedere. tra l'altro premendo questo pulsante qua sotto si va alla home page qua ho il mondo Windows qua ho il mondo della proiezione perché ovviamente si può andare a proiettare sulla lavagna i device quindi invece una classe fino a 20 device si possono andare a proiettare magari ognuno col proprio telefono può o anche in una riunione di lavoro può andare a proiettare su questa lavagna anche dal proprio pc. poi ve lo faccio vedere ma non perdiamoci perché volevo far vedere proprio la possibilità di modificare sia la ricezione dell'audio sia lo zoom della telecamera dove qua vedete in impostazioni videocamera tracciamento intelligente sia vocale sia autoframe cosa vuol dire che se metto qua e inizio a parlare vedete la lavagna ha fatto zoom su di me se smetto di parlare o se dovesse parlare un collega messo dall'altra parte faccio il collega messo dall'altra parte ecco qua è andata su di me quindi sostanzialmente è come avere una regia integrata nella lavagna questo è possibile anche per quanto riguarda l'audio tra l'altro queste sono tutte le impostazioni relative proprio alla parte del software della lavagna e in avanzate oltre ad avere mille opportunità con anche la possibilità di ovviamente creare una rete wifi di utilizzare la lavagna come hotspot magari viene cablata tramite LAN e da wifi a tutta la sala riunioni si può tranquillamente fare nel sì la traduzione non è proprio non fa capire benissimo questa funzione ma pannello acustico isolante c'è una genialata praticamente se noi stiamo nel campo di azione blu il microfono come vedete reagisce alla voce di chi è dentro questo cono che oserei dire cono acustico se io esco guardate in questo caso sono fuori dal cono acustico sto parlando ma la lavagna non reagisce alle mie parole quindi rumori di fondo quindi non so conference call di colleghi che però sono fuori da questo cono acustico non disturberanno la conference call che io sto facendo io o i miei colleghi questa è una funzione veramente geniale guardate appena rientro in campo tac il microfono ci fa vedere che la mia voce viene riconosciuta ma torno alla home page per farvi vedere come questa cosa funziona ho cliccato sulla parte windows ho qua un meeting aperto di zoom e guardate questo è un cellulare collegato con zoom e se mi sposto vedrete come lei farà zoom sulla mia faccia avete visto come ha cambiato l'inquadratura vedete e magari adesso vado dall'altra parte e vedrete che automaticamente ri zoomerà su di me e che ho cambiato la posizione eccolo qua voilà l'ha fatto ma le altre cose super interessanti magari chiudiamo il meeting di zoom sono che tra l'altro c'è anche un update come vedete è proprio un windows tradizionale classicissimo con teams con webex con we meeting quindi la possibilità tranquillamente di usare come dicevo prima tutte le applicazioni ma guardate se io clicco qua sotto posso fare uno screenshot della schermata che in quel momento sta andando sulla lavagna e disegnare proprio sulla schermata in maniera che poi questa possa essere condivisa posso prendere appunti e devo dire che questa è una funzione veramente super super comoda ma non solo perché vi parlavo prima della proiezione in questo momento ho collegato P40 Pro eccolo qua e la cosa interessante che guardate io posso controllare lo smartphone direttamente dalla lavagna questo mi consente non solo di proiettare se sono diciamo al mio posto di lavoro al mio banco la schermata ma anche da parte del professore da chi sta gestendo la riunione andare a cambiare le diciamo le schermate e andare a comandare proprio il telefono questo può essere effettuato tramite l'applicazione che bisogna scaricare sia su ios sia su windows sia su mac invece tutti gli smartphone android hanno integrata questa possibilità ovviamente devono avere la proiezione miracast e questo è questo è il mio mac e anche qua io tranquillamente posso andare a utilizzare vedete qualsiasi tipo di applicazione semplicemente cliccando sull'app ma questa è una proiezione del computer quindi una cosa veramente molto molto comoda ovviamente tramite altre applicazioni si può fare anche il contrario ovvero io scrivo sulla lavagna e diciamo i client che sono collegati possono tranquillamente vedere quello che io scrivo tra l'altro la connessione è semplicissima perché come vedete qua in sovraimpressione c'è sempre un codice che consente proprio il collegamento alla lavagna questa è la parte android ovviamente compatibile con gli apk basta andare su app gallery per scaricarli oppure si mettono su chiavetta e si installano tranquillamente ma altra cosa che volevo raccontarvi e torniamo qua ovviamente è quanto costa e allora andiamo alla pagina 2 premessa leggete qua grande non è un prodotto che si trova in negozio quindi questo è un prodotto B2B fatto da Huawei proprio per le aziende le scuole la pubblica amministrazione tra l'altro mi dicevano che ne hanno donata qualcuna anche a degli ospedali in periodo di covid e devo dire che il design si presta a essere installata praticamente ovunque perché vedete molto minima le ruote per esportarla facilmente e più o meno per la versione 65 pollici pro che è questa ci vogliono meno di 5.000 euro ho segnalato perché ho chiesto sì ma se ne compro tantissime vabbè ovviamente dipende dai distributori perché è un prodotto che si trova dai distributori ma si può arrivare a 4.000 euro oppure comprarlo a rate oppure in leasing tra l'altro vi lascio qua in descrizione il link per avere più informazioni anche scheda tecnica giga ram processore eccetera 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 io volevo andare al sodio e far vedere come funzionava perché mi sembra un prodotto molto interessante ma c'è anche in versione board cosa vuol dire una versione che non ha la cam non ha i protocolli di videoconferenza diciamo che è più pensata magari per un ambito scolastico dove la cama anteriore magari ha poco senso perché riprendere gli studenti che senso ha magari ha senso collegare via usb una cam che è posta in fondo all'aula ma soprattutto una cosa che non mi sono segnato ma mi hanno detto il monitor ha il filtro luci blu per affaticare meno gli occhi si va a un prezzo che è molto più interessante attorno ai 2.000 euro ripeto se volete informazioni qua in descrizione ma è un prodotto che ho trovato decisamente versatile proprio per il fatto che integra questi due sistemi operativi più il sistema operativo nativo suo che va a sovraintendere tutto ma soprattutto quello che mi è piaciuto a parte la pagina iniziale che può essere personalizzata anche con il nome dell'azienda della scuola eccetera eccetera la tecnologia di questo touch che non è touch ma infrarossi e si può scrivere con ogni cosa tra l'altro non ve l'ho fatto vedere ma ovviamente si possono cambiare i colori matite c'è anche la possibilità del riconoscimento del testo prendere un qualcosa e selezionarlo ingrandirlo spostarlo insomma è veramente molto molto versatile brava Huawei veramente un bel prodottino ciao grazie a tutti